ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi vi farò vedere i cavi per fotovoltaico ragazzi questi sono due esempi di cavo per fotovoltaico 12 metri di lunghezza questo ragazzi va utilizzato per le montanti cioè dopo che si è collegata la serie di pannelli vanno a collegarsi positivo finale con negativo finale i poli sono quelli standard da innesto vanno ad innestarsi così e nel nei pannelli e poi vanno direttamente agli inverter dei cordoni da 6 millimetri quadri e cavo nato per il fotovoltaico infatti qui c'è anche scritto dc cable fino a 1500 volt la portata ragazzi è mediamente rigido e doppio isolamento come quaina ea bel cuore e di materiale conduttore un colore nero in colore non è rosso rosso ma è un violaceo che basso rosso come per suddividere positive negativi va più che bene e ragazzi pesano tantissimo inverte libri di 5500 watt picco circa 6.000 6.500 la particolarità l'abbiamo già vista nei video precedenti sono parallelabili perciò tanta potenza tantissimo potenza volendo ragazzi potrei anche parallelarli tutti e come con questi cavi gialli interconnettendo inverter inverter con inverter entrano tutti e quattro in comunicazione e ragazzi così facendo sanno le frequenze e mettono in sincronia la frequenza della tensione in uscita e tutti possono alimentare il tuo appartamento la tua villa il tuo garage ma anche ragazzi un locale commerciale un capannone è normale che in un appartamento non vai a utilizzare quattro inverter a meno che non è un grande appartamento una grande villa 4 potresti utilizzarli appunto in un capannone ogni inverter avrà il suo ingresso pannelli con questi cavi e farà ad alimentare ognuno ok farà la sua parte perché io ho scelto di utilizzare due inverter ok per ogni il mio impianto perché dovete capire che io dovrò andare a realizzare due impianti distinte separati due impianti in due locazioni differenti utilizzando le due io ho preferito l'uso di questi inverter ibridi e non di un mono inverter per esempio da 10 mila watt numero uno ragazzi perché non era semplice trovarlo numero due mi risparmio tanti problemi di interfacciamento di più attrezzature per esempio se io dovessi avere doppio inverter standard più doppio carica batterie regolatori di carica mi ritrovavo appunto quattro apparecchi ok 4 perché con due linee due apparecchi con l'altre con una linea due apparecchi un'altra linea di pannelli altri due apparecchi per risparmiare spazio ed avere tutto in un unico blocco ho preso questo è un super inverter solare ibrido doppio anche perché due perché perché si suddividono i carichi così facendo io avrò tanta potenza disponibile e quando ci saranno i picchi per esempio auto elettrica piano induzione forni si divideranno il carico lavoreranno sempre rilassati le loro componenti non si scalderanno più di tanto perché appunto c'è un assorbimento nel tuo impianto di tre kilowatt le 5 e 1500 ragazzi e gli viene un gioco per questo video ragazzi è tutto ci vediamo al prossimo dove analizzeremo attentamente la connessione che dovremmo fare con le varie cassette di derivazione ciao ragazzi al prossimo video